Travolta da un flusso di migranti senza precedenti, l'Italia ha decretato uno stato d'emergenza per sei mesi per far fronte alla crisi. Il governo ha preso questa decisione in seguito allo sbarco di oltre 3.000 persone negli ultimi giorni, su proposta del ministro Musumeci. La misura prevede un iniziale finanziamento di 5 milioni di euro e sarà applicata su tutto il territorio nazionale. Finora quest'anno sono arrivati legalmente sulle coste italiane più di 31.000 migranti, quasi quattro volte in più rispetto allo stesso periodo nello scorso anno.